Per gli amici dei basket siamo qui oggi con Coach Ramondino Coach, complimenti per il primo posto dalla prima giornata all'ultima squadra con tanti giovani, un mix giovani e anziani allenata soprattutto sulla difesa Che c'è da dire? Primo posto? Siamo entusiasti, contenti, entusiasti perché la stagione era nata con tante altre premesse ed è stata una stagione difficile perché abbiamo avuto tanti infortuni abbiamo giocato metà delle partite senza uno degli stranieri e tanti problemi fisici ma il carattere, come dicevi tu, che l'ha dimostrato dalla prima all'ultima giornata meritava di essere ricompensato con il primo posto che per la formula del campionato lascia il tempo che trova però è anche giusto che la stagione finora disputata dai nostri ragazzi potesse essere etichettata con il primo posto impegno e dedizione fino all'ultima giornata venire qui al Palamanco a non far segnare a Scafati 66 punti senza il vostro centro titolare con una Scafati che ha un brando Sherrod che comunque sotto canestro sposta abbastanza gli equilibri assolutamente ma i ragazzi sono stati molto bravi all'inizio nel difendere a livello individuale abbiamo fatto qualche fallo di troppo però Scafati è una squadra che ha questa capacità perché non solo contro di noi ma è prima in campionato per un numero di tiri liberi tirati che vuol dire un alto numero di falli subiti da fine secondo quarti poi i ragazzi sono stati ancora più bravi a fare un adeguamento di raddoppiare e ruotare per cercare di limitare le situazioni di post basso dei loro lunghi e niente l'applicazione è stata super e anche la capacità di farlo di farlo quando Scafati si è rifatta sotto e poteva mettere le mani sulla partita grazie e in bocca al lupo per la postesa grazie, grazie a voi